Eccoci quindi qui ragazzi, si sono tenuti all'incirca mezz'ora fa i sorteggi per gli ottavi di Champions League e la Roma ha preso gli ucraini dello Shakhtar Donetsk che in questa stagione dopo aver affrontato il Napoli affronterà un'altra italiana ai ottavi, mentre invece la Juve ha trovato gli inglesi del Tottenham Vi dico subito che mi scuso se non vi porterò una reaction live in diretta dei sorteggi perché purtroppo in quell'orario lavoravo e quindi non potevo farmi vedere mentre tiravano sui bussolotti e ho avuto soltanto degli aggiornamenti durante il sorteggio e quindi non ho potuto ovviamente portarvi il video ma spero che comunque vi piacerà questa mia analisi a riguardo e inoltre vi dirò che questo video sarà strutturato con un'analisi della squadra che ha preso la Roma, che ha preso la Juve e in generale di tutti gli altri ottavi, sperando ovviamente di essere il più stringati possibile Parliamo dello Shakhtar, allora, senza dubbio non è l'avversario peggiore che potessimo prendere e su questo non ci piove, soprattutto se pensiamo che erano rimaste soltanto Bayern Monaco Real Madrid e appunto lo Shakhtar In quel momento io ho detto ecco, a posto, siamo fregate dopo che erano state stratte le altre ho detto ecco, c'è rimasto solo lo Shakhtar adesso prendiamo o Real o il Bayern Monaco e siamo già fuori Per fortuna, arrivati in quel momento, abbiamo preso la squadra migliore, secondo me Parlando proprio a livello di pronostico, poi si sa che in Champions League nessun avversario è facile Lo ha dimostrato il Carabag, le hanno dimostrato tante altre squadre e lo ha dimostrato lo stesso Shakhtar contro il Napoli che nessuna squadra può essere presa sotto gamba Oltretutto noi abbiamo un precedente sul quale fare il riferimento che risale alla stagione 2010-2011 un precedente che già vi ho raccontato nei precedenti video con la Roma che aveva pescato lo Shakhtar che in quel momento sembrava una delle prime classificate più abbordabili Cosa è successo? Sia in casa che in trasferta non li abbiamo affrontati con la giusta mentalità perdendo sia l'andata che il ritorno e prendendo 6 gol tra andata e ritorno 3-2 in casa, 3-0 ritorno e già questo ci deve far capire che lo Shakhtar non è una squadra da sottovalutare poi per carità quello Shakhtar secondo me era molto più forte perché aveva giocatori del calibro di William, Douglas Costa, Luisa Adriano nel suo migliore momento di forma quindi è ovvio che quello Shakhtar rispetto a questo era più forte tecnicamente ma questo non vuol dire niente la Roma deve comunque affrontare la propria squadra sapendo che può metterci bastoni fra le ruote ci sono due punti positivi se così si può dire di questo sorteggio primo punto è che essendo arrivati i primi giochiamo all'andata in casa loro e il ritorno all'Olimpico quindi noi possiamo comunque fare il nostro gioco in casa loro e poi all'Olimpico dare il massimo cercando ovviamente di non subire gol per passare ai quarti di finale già questa è una cosa positiva perché giocare prima all'andata in casa e il ritorno in Ucraina al freddo e al gelo sarebbe stato leggermente più complicato l'altro punto che può essere un'arma a doppio taglio è che lo Shakhtar dai dicembre fino a fine febbraio più o meno non gioca il campionato per loro è come se fosse per noi la sosta estiva di campionato per due mesi all'incirca non giocano e questo è un'arma a doppio taglio perché in questo modo possono concentrarsi solo ed esclusivamente su questa partita e questo è l'aspetto negativo l'aspetto positivo però è che non giocando nessuna partita né prima né dopo per diverse settimane l'approccio che dovranno usare in questa partita sarà più complicato perché per me quando tu non giochi per tanto tempo è difficile ritrovare subito la giusta amalgama e il giusto spirito di gioco poi per carità può darsi anche che inizieranno a giocare e faranno i fenomeni quello non lo sappiamo però per me una squadra per potersi abituare a giocare bene deve giocare tante partite non una ogni due giorni però una settimana sicuramente sì cosa che lo Shakhtar in questo caso non avrà e vedremo un po' se sarà per loro un aspetto positivo o un aspetto negativo nel complesso sono soddisfatto di questo sorteggio perché poteva dirci molto peggio poteva dirci anche meglio perché a livello tecnico Basilea, un po' il Siviglia, il Porto erano avversari più abbordabili diciamo soprattutto per quanto riguarda la partita che dovremmo giocare in casa loro però alla fine sono contento così avevamo un terzo di possibilità di prendere due squadre proibitive come Real Madrid e Bayern Monaco e per fortuna alla fine siamo riusciti ad evitarli anche con un pizzico di fortuna perché di tre rimaste abbiamo preso la squadra più abbordabile abbordabile che però non deve assolutamente essere sottovalutata noi tifosi della Roma lo sappiamo bene che di squadre sottovalutate ce ne sono una lista di 50 come minimo negli ultimi anni quindi questo Shakhtar come sette anni fa non deve essere preso sotto gamba perché anche se a livello tecnico è alla nostra portata e secondo me siamo più forti dobbiamo dimostrarlo sul campo detto questo parliamo della squadra che ha preso la Juve e cioè il Tottenham allora, permetto che anche nel caso della Juve poteva dirgli molto peggio prendendoli il Paris Saint-Germain però francamente il Tottenham è una squadra veramente temibile quello bisogna dirlo l'unica squadra peggiore secondo me erano il Paris Saint-Germain e lo United diciamo anche lo United però il Tottenham è una squadra veramente veramente tosta è quella squadra che tu pensi ma se il Tottenham il massimo che ha fatto gli ottavi di finale forse i quarti non mi ricordo neanche se è riuscito ad ottenere i quarti di finale è una squadra che ha fatto molti anni l'Europa League però quest'anno è diverso quest'anno è una squadra con i controcoglioni a parte che a livello tecnico sono veramente tostissimi hanno un attacco velocissimo un centrocampo solido una difesa che magari non è proprio il suo tassello migliore però a livello di rossa sono una squadra temibile sono quelle classiche squadre che tu non sai mai come affrontare se affrontare a petto in fuori cioè tutto quanti spavaldi alla carica per distruggerle mentalmente oppure se stare più arroccati e stare più attenti a livello difensivo sono quelle squadre difficili complicate che non sono né troppo scarse né troppo forti la cosa però che bisogna capire è che il Tottenham ha fatto arrivare secondo il Real Madrid questo molti non lo pensano cioè il Real Madrid è arrivato secondo perché il Tottenham lo ha massacrato in casa propria credo che abbiano vinto addirittura 3-0 3-1 3-0 forse 3-1 hanno comunque vinto 3-1 con il Real Madrid hanno una signora squadra un attacco che fa paura delle Alli Harry Kane Eriksen eccetera eccetera hanno una squadra secondo me di avertecnico ottima la Juve però può farcela la Juve secondo me è più forte dal punto di vista tecnico sono entrambe due belle squadre e secondo me sarà un ottimo ottavo di finale poteva dirgli peggio? sì poteva dirgli meglio? sicuramente sì se avessero preso il Besiktas però secondo me essendo arrivata seconda non puoi aspettarti di trovare squadre semplici e per me il Tottenham non è né una squadra semplice e né una squadra impossibile da affrontare che devi giocarci soltanto per prenderne il meno possibile quindi per me la Juve come la Roma hanno tutte le carte in regola per passare questi ottavi anche se ovviamente bisognerà far parlare il campo in ultimo vi voglio parlare degli altri sorteggi degli altri ottavi dicendovi brevemente una mia opinione Basilea Manchester City penso che il City passerà a occhi chiusi Porto Liverpool è una sfida molto combattuta anche se secondo me Liverpool a livello tecnico è di gran lunga superiore Sevilla Manchester United anche in questo caso penso che lo United non avrà problemi Real Madrid Paris Saint Germain questa è una bellissima partita perché io non voglio esagerare ma per me questa poteva essere benissimo una finale di quest'anno benissimo e invece al quarto di finale una di queste due squadre se ne andrà via poi Chelsea Barcellona e qua diciamo che si ritorna anche alla semifinale di Champions 2008-2009 quella rubata dal Barcellona in casa del Chelsea sarà molto bello rivedere se potrà esserci una rivincita oppure se dominerà ancora il Barcellona e in ultimo Besiktas Bayern Monaco e qua si può dire che è come se il Bayern Monaco fosse arrivato primo perché ha preso una squadra che è arrivata prima solo perché erano un girone abbastanza mediocre con tutto rispetto per i turchi però penso che il Bayern Monaco non avrà nessunissimo problema per arrivare ai quarti di finale spero che vi sia piaciuta questa mia analisi dei sorteggi di Champions League fatemi sapere se siete soddisfatti se invece siete dispiaciuti magari speravate in qualcosa di meglio per la vostra squadra ovviamente mi riferisco a Romanisti e Juventini e fatemi sapere nei commenti se volete anche la mia analisi sui sorteggi dell'Europa League che penso si stanno facendo in questo momento non so se riuscirò a caricarlo subito però se volete vederlo fatemelo sapere qua sotto nei commenti un saluto e ci vediamo presto per le pagelle di Chievo Roma un saluto e sempre forza Roma ciao ragazzi a Grazie a tutti.